La paura, la paura. Se c'è una cosa che mi fa paura, è la paura. E i lupi, anche i lupi mi fanno molto paura. Forse è un retaggio fiabesco, basta dire lupo e sei subito lì, in quella selva oscura dalla quale può emergere da un istante all'altro un lupo, con le zanne e divorarti. Sì, i lupi. I lupi mi fanno paura, anche perché poi sai che nella realtà sai quante persone vengono attaccate e aggredite dai lupi ogni anno? Sai quante? Sai quante? Sei. Però i lupi mi fanno paura, mi fanno paura mai quanto gli squali. Gli squali mi fanno più paura perché sono più grandi dei lupi, hanno denti più aguzzi, sono più feroci, poi abitano gli abissi del mare, riemergono e poi sai quante? Sai quante persone vengono attaccate dagli squali in un anno? Sai quante? Quante? Dieci. Dieci. Dieci persone. Che uno pensa, beh, ma allora sono più pericolose le noci di cocco che uccidono 150 persone l'anno? Sì, 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 forse sono più pericolose ma fanno meno paura. Spielberg altrimenti avrebbe fatto il cocco, non avrebbe fatto lo squalo uno, due e tutto il resto, avrebbe fatto il cocco. E invece il cocco uccide di più ma fa paura di meno rispetto allo squalo. Ma non c'è niente, niente, non c'è niente al mondo che mi faccia paura quanto mi fanno paura. I ragni. Io ho il terrore dei ragni, proprio un terrore che non si può raccontare, un terrore spaventoso che mi prende la pelle, mi squassa, mi devasta, mi fa paura. E mi fa paura per una ragione molto semplice, perché io da bambino ho ucciso il re dei ragni. E se uccidi il re dei ragni è prima o poi della Spetti, una vendetta tremenda, disastrosa, e quindi sto sempre a Guardingo e i ragni mi fanno sempre una grande paura. Sì, però, però adesso vi devo raccontare la storia di quando ho ucciso il re dei ragni. Dunque, avrò avuto 7-8 anni, abitavo a Miasino, sul lago d'Orta, e il lago d'Orta esporta in tutto il mondo i ragni più grandi della Terra. Cioè, se voi vedete un ragno grande, tipo magari anche in Amazzonia, quello lì sicuramente è venuto fuori dal lago d'Orta. Dal lago d'Orta ci sono dei ragni giganteschi, immensi, e io lo sapevo e ci stavo molto attento, perché avevo già molto paura dei ragni. I ragni mi terrorizzavano. Ed era uno di quei pomeriggi in cui me ne stavo a Miasino, che sta in collina un po' sopra il lago d'Orta, e stavo percorrendo una di quelle stradine di campagna, che sono tutte terra, brulla, ai margini dei prati, che c'era un prato di qua e un prato di là, e la giornata però era cupa, tetra, le nuvole si stavano addensando, stava diventando tutto buio, e c'era quel vento, quel vento umido che ti lecca la pelle, ti lascia addosso quei brividi densi di umidità, e sulla strada, mentre sono lì che percorro il sentierino, io vedo dal lato sinistro, dal pascolo sinistro dove c'è il prato, vedo risalire verso il sentiero, mentre il vento intanto mi congela la schiena, le braccia, le mie gambe di bambino ottenne, vedo risalire una macchia nera, gigante, grande, grossa, immensa, veloce, rapida, feroce e vorace, e lo vedo ed è grosso, ed è grosso, ed è grosso quanto io mai potrei raccontare una cosa grossa, è un ragno, non è un ragno, è il re dei ragni, perché per essere grosso così non devi essere un ragno, devi essere il re dei ragni, cioè i ragni, voi lo sapete come vanno, no? I ragni vanno così, ma questo era talmente grande che non andava così, questo andava così, ta 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 ta, mulinava le zampe, veloce, rapido, mentre intanto il cielo era sempre più scuro e si vedevano in fondo i primi lampi che crepavano, le nuvole scure, l'acquazzone stava arrivando, e i ragni la sentono l'umidità e scappano, ma questo non stava scappando, perché non era un ragno, era il re dei ragni, stava risalendo, ta 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 ta, e voleva attraversare il sentiero, perché dall'altra parte del sentiero c'era una lumaca, una lumaca rossa, una grossa lumaca rossa di quelle che escono quando l'umidità diventa proprio presente e opprimente, e il re dei ragni voleva attraversare il sentiero e abbattersi con la propria feroce sulla lumaca rossa. Io sono un bambino, ho sette, otto anni, ma capisco immediatamente quello che c'è da fare, capisco che quello è il re dei ragni e capisco che sta per attaccare, per divorare e per distruggere quella lumaca che sta dall'altra parte del sentiero, e quando il re dei ragni è proprio lì, vicino a me, a pochi passi, io capisco che ho una sola possibilità, e intanto l'umidità mi gera la pelle, e sento quel gocciolio di sudore che si mischia al vento del cielo e all'umidità, e capisco che posso fare una cosa sola. E la faccio, con il mio piede destro, con il mio piede destro, lo schiaccio. Schiaccio il re dei ragni, ma proprio con un colpo secco di bambino di otto anni che mette tutta la sua forza in quel piede, quel piede schiaccia il re dei ragni. E sento, sento quel rumore grosso e grasso di tanti biscotti secchi schiacciati. E mentre uccido il re dei ragni, capisco che per ucciderlo definitivamente non basta schiacciarlo, non basta quel rumore di biscotti secchi schiacciati, io devo girare verso destra il mio piede destro, e lo giro forte, pestando, e sento, e sento il rumore di tanti piccoli biscotti secchi schiacciati. Ma non basta, io ho otto anni, quello è il re dei ragni, per uccidere il re dei ragni, non basta, non basta una pedata, non basta girare il piede verso destra, e allora giro il piede verso sinistra ancora e ancora forte, e sento, sento, sento quel rumore come tanti chicchi di riso soffiato che scoppiettano sotto la mia pressione. Ma non basta, ancora non basta, quello è il re dei ragni, e io sono un bambino di otto anni, e allora, e allora lo faccio, a due piedi, così, pam, lo schiaccio, a due piedi, e non ne posso più. E poi guardo dall'alto, e vedo a destra del mio piede destra, quattro grosse zampe nere di ragno, e a sinistra del mio piede sinistro, quattro grosse zampe nere di ragno, che ancora un poco si muovono, e poi non si muovono più. L'ho ucciso, ho ucciso il re dei ragni, sono sudato, comincia anche un poco a piovere, quella pioggerellina, leggera, estiva, che ancora non tocca terra, che evapora a contatto col calore della terra, e io sono sudato, grondo, sudore, fatica, ho ucciso, ho ucciso il re dei ragni, ho salvato la lumaca rossa, ma non me ne frega niente della lumaca rossa, io volevo uccidere il re dei ragni, l'ho ucciso, e lo guardo dall'alto. E quando sono convinto che l'orrore sia finito, l'orrore deve ancora cominciare, perché poi lentamente sollevo lo sguardo, e di fronte a me, a un metro, che mi guarda fisso fisso negli occhi c'è, c'è Suor Laura. Dunque, Suor Laura è la suora di Miasino, è una di quelle suore con gli occhi azzurri, 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 così azzurri che se la guardi negli occhi vedi i pensieri di Suor Laura, e i pensieri di Suor Laura non sono sempre dei buoni pensieri, e poi è una di quelle suore che gira sempre con quell'abito nero, tubolare, che nasconde sempre i piedi. Secondo me non ce li ha i piedi, Suor Laura, cioè aleggia, voleggia e volteggia laddove dovrebbe invece camminare. Mi guarda negli occhi Suor Laura, capisce benissimo quello che è successo, ha visto tutto, ha visto la scena, ed è a mezzo metro da me, mi guarda negli occhi e dice bravo, adesso arriverà la sua mamma a vendicarsi. E io tutto un colpo capisco, capisco che esiste la mamma del re dei ragni, e se mi faceva paura il re dei ragni, beh ma immaginate voi quanta paura poteva farmi la mamma del re dei ragni, alla quale avevo appena ammazzato il figliolo, e quindi giustamente una qual sorta di vendetta avrebbe anche potuto tentare di macchinarla nei miei confronti. Avevo ucciso il re dei ragni, e la sua mamma da allora è sulle mie tracce. Beh insomma la paura fa paura, ma non c'è niente che faccia più paura della mamma del re dei ragni. Una cosa sola, io ogni tanto lo dico, questa storia la racconto, mi piace molto, è la storia che spiega la mia fobia per i ragni, ma non mi raccontate le vostre, vi prego, non mi raccontate le vostre esperienze con i ragni, io non le voglio sapere, non le voglio sapere, non le voglio sapere, perché sulle mie tracce c'è già la mamma del re dei ragni, e non voglio sapere nulla di più.